Buongiorno, lei è fresco vincitore di un premio prestigioso, durante Golosaria, una manifestazione organizzata da Paolo Massobreo, il suo negozio è stato insignito del titolo di migliore pasticceria d'Italia del 2009, come questo primato si riverbera sul suo panettone? Intanto tengo a ringraziare ancora quello che c'è stato, mi è stato ovviamente riconosciuto veramente una gratificazione che era inaspettante, per cui tutto questo sicuramente mi ha solo colpito, mi ha emozionato e tutta questa emozione cercherò di riversarla sempre di più a quello che sto facendo, a quello che sto ideando. Che tipi di ingredienti utilizza per il suo panettone tradizionale? Gli ingredienti decisamente sono top, sono primissima qualità, primissima scelta, non ci sono segreti perché gli ingredienti erano formelli, qui ci siamo un po' tutti, l'unico segreto è quello di adoperarsi a utilizzare solo materie prime di eccellenza e poi solo amore e basta, non c'è altro. Perfetto, io la ringrazio e auguro di vincere tanti altri premio. La ringrazio tantissimo. Grazie. Grazie.